L'ultima volta che ho fatto video da Pokémon ragazzi eravamo un Cosmem, proprio come in questo momento, sono un po' difficile da inquadrare ragazzi ma guardate che bellino che sono Ma siamo diventati un Solgaleo e oggi diventiamo un bellissimo Lunara, ma quanto pare ragazzi siamo bloccati nella ultradimensione È una ultradimensione diversa da quella che conosciamo normalmente ragazzi come notate cambia colore continuamente e abbiamo anche la nostra bellissima gravità Siamo spawnati direttamente sopra un Poké Center che credo che come l'ultima volta ci darà la possibilità di scegliere tre Master Ball bellissime Quindi ragazzi benvenuti e bentornati in questo nuovo video, salutiamo Hector, Lubna e Crystal che hanno commentato lo scorso video con l'hashtag Minecraftita E voi ragazzi commenterete in questo video sempre con l'hashtag Minecraftita dicendomi quale altro Pokémon dovremmo fare la sua vita Magari un Bulbasaur, un Pikachu o qualunque altra roba vogliate ragazzi Oggi siamo ancora Cosmem, ma perché nella ultradimensione ragazzi, uh fermi, abbiamo trovato due XP Candy Poi qua cosa troviamo, dei safety Google, so che è interessantissimi, gli altri XP Candy ne abbiamo quattro Allora, fermi un attimo perché i Google, la cosa ci servono ragazzi, ah per vedere meglio nella ultradimensione Ok, molto interessante ragazzi, questa roba qua della ultradimensione che è colorata e cambia colore ogni volta, è molto 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 carina Comunque dicevo, siamo nella ultradimensione e siamo diventati gialli E visto che volevo fare un video diverso dal solito, non stare nella dimensione normale, ma cambiare dimensione Ho detto, nell'ultradimensione solamente Cosmem, Lunala o Solgaleo o Necroz, ma posso entrare qua dentro Quindi ho pensato che potevamo direttamente provare a fare la vita da Lunala a questo punto Quindi, ovviamente volevo partire dal mio bellissimo Cosmem, ma non mi aspettavo di trovare già 4 XP Candy XL così, appunto per potermi livellare così in fretta Allora, voglio esplorare con voi questa ultradimensione, perché è diversa da quella che conosciamo solitamente Quindi, prima di trasformarci, cerchiamo di capire, questo qua è una torre gigantesca di dirt molto molto sana, come se appunto fosse stata smontata Qua credo che abbiamo una palestra di tipo ghiaccio, ok, interessantissima Vediamo se c'è già qualche allenatore all'interno che potremmo sfidarlo se il nostro... Uh, c'è in effetti! Allora, dopo veniamo qua a sfidare questo allenatore, perché appunto comunque, noi ragazzi, in questa serie qua di video dove facciamo vita da Pokémon E questa serie qua vi sta piacendo tantissimo Proviamo appunto a vivere la vita di qualunque tipo di Pokémon stiamo provando ad avere Per esempio, oggi noi siamo quel leggendario che è Cosmem, ma abbiamo provato anche a fare, per esempio, una vita da starter come Charizard, Charmander Quindi diventare un Charmeleon e un Charizard Per appunto, vedere com'è partire da zero, da Pokémon in effetti, per vedere quanto si diventi potenti Ragazzi, ma sono stato colpito da un... come cavolo si chiama? Da uno Shulker! Ma da quando ci sono i mob cattivi su Minecraft quando ci sono i Pokémon? Allora, adesso probabilmente stiamo scendendo, fatemi vedere un attimino No, sì, stiamo scendendo, ma con molta, molta calma, perché stendo nell'ultra dimensione Siamo vicino alle barche del Land Ma che diamine mi state dicendo, ragazzi? E infatti ci sono i Shulker! Guardateli qua, ci schifosi maledetti che non escono più! Cioè, è la prima volta che un Pokémon viene colpito da un mob cattivo, posso assicurarvelo, ragazzi Ma c'è anche una cassa qua dentro? Sì! Allora, quindi ci sono i... gli Shulker Quindi ci sono anche le barche del Land nell'ultra dimensione di questa serie Ma, al posto degli soliti loot, tipo spade, armature o queste cose qua Hanno dei... oh, ci sono altri due Shulker in alto Dicevo, hanno degli oggetti dei Pokémon Credo che però questo qui sia un dungeon con delle sfide finali Quindi mi sa che quegli Shulker in alto Difendono qualche boss da poter sfidare Molto interessante, ragazzi Allora, io direi che potremmo già trasformarci Oh, c'è un Metapodalotto Ah, guardiamo che mossa abbiamo Abbiamo un Psichico E abbiamo Cosmic Powder che non... Power che non fa nulla Quindi il Psichico noi ce lo prendiamo, ragazzi Lo utilizziamo perché abbiamo un'ottima mossa Ma noi siamo al livello 52 Allora, possiamo fare una cosa interessante, ragazzi Potremmo andare direttamente qua in questa palestra E provare a sfidarla Vediamo che tipi di Pokémon hanno, magari E in questo modo possiamo magari livellarlo senza utilizzare le Xp Candy Perché essendo comunque una vita da Pokémon Sarebbe bello livellare i Pokémon con le sfide Quindi, allora, già è una sfida fare parkour nella ultradimensione E il fatto è che noi siamo dei Pokémon E quindi è difficilissimo da saltare, muoverci e quant'altro Però, ragazzi, questa qua è anche la sfida Essendo che noi siamo appunto dei Pokémon Andiamo a vivere una vita completamente da Pokémon E provare a fare parkour, quindi, anche da Pokémon Possiamo fare però salto doppio, ragazzi Quindi guardate che bravo che sono Ok, e abbiamo già davanti qua All'altro livello 50 Ok, potrebbe fare al caso nostro, ragazzi Ma che versione è del Solgaleo questa, ragazzi? Ma è bellissimo! È al livello 50, anche più basso di noi Allora, lui ci ha fatto un critico Ma ci ha distrutto l'universo, ragazzi Ma è fortissimo il Solgaleo Ma dannazione a lui Ragazzi, ci ha shottato Ma era un Solgaleo potentissimo Ma come si è permesso, ragazzi Distruggirci in questo modo E in tutto ciò, poi L'esterno continua a cambiare colore Stiamo diventati completamente blu Allora, il fatto che il nostro Cosmem Credo sia troppo scarso Ha un problema Ma fermi un attimo Si è riempito col Meganium Il raid Allora, devo aspettare un attimino Che si curi il Cosmem Perché in questa versione qua Della Pixemon I Pokémon nostri si curano da soli Però, dato che non possiamo Come si partecipa ai raid? Scusatemi un attimino Allora, signor raid Buongiorno, ok Dato che Voglio provare a partecipare a questo raid E voglio livellare il Cosmem In battaglia senza darle XP I Candy Voglio provare a vedere se ora funziona Ok, il Meganium Noi siamo in squadra con Auluccia Poi con Cleferi E Cleferi al 36 Contro un Meganium Gigamax Allora Ci ha tolto più o meno 18 di vita Però vediamo quanto le abbiamo tolto Le ho tolto 20 No, le ho tolto 10 di più o meno Per cento Eh, mi sa che questa battaglia qua Ragazzi, anche questa perdiamo Ma donnazione Sono uno scarsone Nel video di oggi Allora Selezioniamo Anche Auluccia Se è voluto Ragazzi Auluccia mi sa che Tancherà questa battaglia Però stiamo facendo un sacco di danno a questo Meganium Potremmo provare a livellarci Sfidando e battendo Il nostro primo ride Del video di oggi Int... No Hanno colpito un Cleferi Allora Questo Meganium qua ragazzi È arrivato al 55% di vita Però si è ricaricato ancora Dannato schifoso Io ho solamente ancora 7 utilizzi di attacco Ci ha tolto metà vita questo Meganium Stiamo molto attenti Quindi Possiamo eliminarlo Per favore Auluccia Dai che sei Dynamaxato Puoi essere utile in questa battaglia Per favore Dai Allora ragazzi Perché io voglio vedere la battaglia In realtà Ma credo che non si possa Qua abbiamo un minimarci vita in città Qua Guardate che bellino che è Però Possiamo eliminarlo Questo dannatissimo Meganium Riusciamo a fare qualcosa Che continua a ricaricarsi la vita Ok È al 33% di vita Ma noi siamo sotto di un sacco Ragazzi Non abbiamo neanche cure Credo Però È al 23% Sembra che ce la stiamo facendo E in più ci stiamo ricaricando la vita Perché Cleferi Come notate Sta ricaricando la vita Tutti quanti ragazzi in battaglia Ok abbiamo solo 4 utilizzi Di psichico Quindi Rifacciamolo Eh hanno abbattuto anche l'altro Cleferi Ok Al 7% di vita 1% di vita Dai che ce la possa fare Ti prego Cosmem Lo abbiamo sconfitto Lo abbiamo sconfitto Credo di sì No ragazzi Però Lui ha sconfitto noi All'ultimo Non ce l'abbiamo fatta Di pochissimo Ragazzi È destino Che il nostro Cosmem Allora si libelli Con l'XP Candy Abbiamo perso All'ultimo secondo Dell'ultimo round Diciamo che la vita da Cosmem Non è per niente semplice Quindi tiriamo fuori La nostra anima da Pokémon E facciamo che ci evolviamo Noi in questo momento Cosmem Ora Deve diventare Un bellissimo Lunala O almeno Spero diventi un Lunala Perché tecnicamente Dovrebbe diventarmi un Lunala Aiuto Ok Sono diventato un bellissimo Lunala Lunala Ragazzi Guardate che bello che è Guardate che bello che sono In realtà Perché quella era la mia anima Questo Sono io per davvero Un incredibile Potentissimo Lunala Posso anche volare Tecnicamente Che figata Posso volare La Lunala Si sbattono anche le ali Ragazzi Ma ho imparato qualche mossa Scusatemi Fatemi vedere un attimino Move Allora Statistiche Siamo un po' pessimi Abbiamo un Mungus Beam E ci hanno tolto Psichico Però Beh è molto 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 male Possiamo anche però Tirando fuori la nostra anima Livellarci E provare a vedere Se possiamo imparare Magari qualche mossa Grazie all'XP Candy Che abbiamo appena avuto Più la caramella rara Però niente A che livello siamo arrivati A livello 62 Ok Meglio di nulla Però io rifarei la battaglia Questa qua in questa palestra Che abbiamo trovato di prima Quindi da buon Lunala Vogliamo Sorvoliamo su questa palestra E proviamo a sconfiggere Quel dannatissimo Solgaleo Super super strano Solgaleo Dove sai che ti vengo a prendere Allora proviamo a fare Questa battaglia Anche se non è per niente semplice Lanciare la ball Direttamente contro di lui Allora aiuto Aiuto Per favore allenatore Mi vuole fare la battaglia Ok Ora Parliamo chiaro ragazzi Con molta calma Abbiamo Lunala Contro Solgaleo Vediamo un attimino Cosa riusciamo a fare Abbiamo imparato anche Moonblast Non mi è riuscito Che era scritto Che aveva imparato anche Moonblast Però mi sa che ora Riusciamo a fare una battaglia Un po' più vera Lui non ci ha ancora attaccato Molto molto bene Dove è andato a finire Era super efficace Moonblast È vero L'abbiamo shottato così semplicemente Ah Molto molto bene Ora possiamo andarci Direttamente fuori Allora ma Questa master ball Qua c'è sempre stata Perché Ragazzi a questo punto Credo che Sia Il drop Di questa sfida Ma mi ha dato una master ball Così mi ha dato Ok Ma c'è anche un necrozma Ma che cavolo succede ragazzi Ma posso catturarlo così Mi state No dove è andata la master ball Calma Posso catturarti signor necrozma Aiuto È difficile catturare Quanto è difficile catturare Un pokémon Trasformati da pokémon Ragazzi voi non potete Dove diamine ho sparato La master ball adesso Dannazione a me Che è difficissimo Catturare i pokémon Da pokémon Dato che non riesco però A catturarlo ragazzi A questo punto Proviamo a sfidarlo Ok E a catturarlo direttamente In questo modo Allora Diciamo che la vita da nulla È stata un po' più sempliciotta Rispetto a quella di Solgaleo Non lo so però Perché comunque La battaglia Cosa che non era successa prima Però nella vita da Solgaleo Phantom forza ragazzi Lo facciamo imparare Assolutamente A posto di Cosmic Powder E dicevo Nella vita da Solgaleo La master ball Non ci avevamo fatto Così tanto tempo Ci avevamo messo Molti più a farmarla Però Diciamo che L'abbiamo livellato Molto più in fretta al Cosmem Rispetto Che nel video appunto Del Solgaleo Questo qua di nulla È stato molto più difficile Da farmare Allora Noi adesso dobbiamo raggiungere Il punto più in alto Della barca Della ultradimensione Quindi andiamo a fare questo salto E arrivare perfettamente Da questo lato Ok che lunala Ok che vola Però è un po' più difficoltoso Poi vi ho risparmato Tutta quanta la parte Parkour Ma qua c'è un allenatore Comune E qua c'è un altro Shooker Buongiorno signor allenatore comune Aiuto Aiuto Muoversi da lunala Ragazzi è molto difficile Ve lo assicuro Ma possiamo sfidarlo Allora Vorrei tirare fuori La mia anima Da lunala E non vedo un tubo Però aiuto 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 È un po' un problema Io sparo lunala a caso Ragazzi così La mia anima Prima o poi colpirà Questo allenatore Dannazione Devo rompere i blocchi Aiuto Credo che ce l'abbiamo fatta Oh Necrozmal 102 A lui Allora Vediamo un attimino Perché lui era common Pensavo che fosse Il livello più basso Invece a livello 100 Calma Perché a livello 100 Ragazzi è molto potente No ho utilizzato Rockblast Questo qua mi distrugge L'universo Con Rockblast Allora Andiamo di Mungusbeam Che siamo super efficaci Lui ci ha attaccato due volte Noi con Mungusbeam Comunque Li togliamo Il 50% di vita Lui però ci ha shottato L'unala Ok Meno male che abbiamo catturato Necrozma Che non ho neanche guardato A che livello L'avevamo catturato Ma ho letto bene Al 97 Fermi Non l'avevo letto Che era al 97 Quando l'abbiamo preso Power gem Oh Calma Li abbiamo tolto tantissimo Noi non ci ha attaccato Meno male che l'abbiamo catturato Ragazzi un altro power gem Dovremmo shottarlo Quindi Vediamo per favore Oh ragazzi L'abbiamo shottato Oh L'enlunarizer Enlunarizer Denominiamolo per bene Perché appena Lunala Mi tornerà per bene in vita La mia anima da Lunala Mi tornerà per bene in vita Posso unirli E diventare Ultra Lunala Cioè Lunala Necrozma Ultra Molto molto figo Indovinate chi ha appena messo le zampe all'interno del fuoco Il buon vostro Lunala Guardate qua che bello Quando prendo fuoco Allora Tecnicamente però La mia anima si è tecnicamente Risistemata E con l'enlunarizer Dovrei Trasformarmi Ah no Devo utilizzare Necrozma In realtà Quindi utilizziamo Necrozma E così Non Perché non funziona Aiuto Necrozma Magari devo tirarli fuori entrambi Non lo so Perché non vi unite voi Andate a ragione a voi Vi odio entrambi Allora Ragazzi La vita della Lunala È stata molto Molto difficile Non capisco Perché entrambi Non si Non cambino ragazzi Perché tecnicamente Loro dovrebbero fondersi E diventare Lunala Verso le Necrozma Vediamo se così funziona Ha funzionato Ha funzionato Mungus Pim Al posto di cosa Di Morning Sun Guardate che bellino Che sono diventato ragazzi No Sono ancora Necrozma Ma come nel video di Solgaleo Ragazzi Si diventa Necrozma Però La mia anima In realtà Fa parte Invece Di Questo Lunala Necrozma Ok Molto 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 interessante Vabbè Ragazzi Spero che questo video qua Vi sia piaciuto È stato molto divertente Vivere questa vita da Cosmem Poi da Lunala E adesso da Ultra Necrozma Anche se non diventato Necrozma ancora Però Spero che questo video qua Vi sia piaciuto Vi invito a scegliere uno Dei due video qua davanti E dirmi qua sotto nei commenti Quale altro Pokémon Volete che Io mi impersonifichi Nel prossimo video Da Marco è tutto ragazzi Ciao ciao